Salve, siamo ancora qui con la nostra orazione contro un'era processo a una cortigiana e siamo arrivati al paragrafo 9. Comincio la lettura. C'è il punto, vado a capo e come sempre analizzo con l'exigram. Allora, facciamo la ricerca dei verbi. Il primo verbo è ezetesen, che è un... ecco, facciamo subito l'identificazione. L'indicativo dell'auristo è terza persona singolare del verbo zeteo. Il secondo verbo è anelein. Anelein è l'infinito dell'auristo di anaereo, infinito dell'auristo attivo. Poi abbiamo ebulezze, che è l'indicativo dell'auristo passivo. Mi raccomando sempre di cancellare medio passivo. Indicativo dell'auristo passivo, terza persona singolare, del verbo bulomai. Poi abbiamo ecbalein, che è l'infinito dell'auristo di ecballo. Bene, vado alla traduzione. Quindi, caigar e infatti ezetesen, il verbo zeteo, vuol dire cercare di fare qualche cosa. E abbiamo qua poi anelein, che viene da anaereo, qui nel senso di rovinare, e vuole l'accusativo della persona che si rovina. Quindi ezetese cercò di rovinarci, anelein emas, umonon, non solo taute, taute naturalmente sottinteso processo, quindi non soltanto con questo processo, con questo processo era la grafè, e quindi ecco, questo spiega il femminile, non soltanto con questo processo, alla cai, ma anche ebulezze, volle, ecbalein, bandire, cacciare, auton, lui, lui si intende Apollo d'oro, quindi io ho proprio scritto Apollo d'oro per capirci, quindi volle cacciarlo, volle bandirlo, ectes patridos, dalla patria, cioè dalla città. Grazie. Grazie. Continuo con la lettura. Grazie. Grazie. Bene, torniamo su Lexigram e vediamo prima di tutti i verbi. Allora, epenencas. Epenencas è il participio dell'auristo nominativo maschile singolare di epifero. Poi abbiamo il prossimo verbo che è afikomenos, afikomenos è il participio dell'auristo nominativo maschile singolare di afikneomai. Poi abbiamo zeton, il verbo l'abbiamo già conosciuto prima ed è il participio presente del verbo zeteo, nominativo maschile singolare. Pataxeie è lottativo dell'auristo attivo del verbo patasso, terza persona singolare. teleuteseien è lottativo dell'auristo attivo, terza persona singolare del verbo teleutau. Paraskewasamenos è il participio dell'auristo medio, non medio-passivo, ma medio, dal verbo paraskeuazo, nominativo maschile singolare. Poi abbiamo kataskeuazas, che è il participio dell'auristo attivo nominativo maschile singolare di kataskeuazo. Eyesan è lottativo del verbo essere, eccolo qua, lottativo presente terza persona singolare. Poi abbiamo pro-eipen, indicativo dell'auristo attivo, terza persona singolare di pro-lego. E direi che siamo arrivati al punto. Benissimo, allora comincio da epenenkas. Gar, infatti, epenenkas viene da epifero e vuol dire presentare. Quindi, avendo presentato auto contro di lui una haitian pseudè, una falsa accusa, quindi un'accusa falsa, teniamo presente che pseudè è un aggettivo a due uscite della seconda classe ed è un accusativo, in questo caso femminile, singolare, perché si riferisce haitian e fa pseudese, pseudese, pseudese con l'eta per il maschile femminile, pseudese con l'epsilon con il neutro. Quindi, avendo presentato contro di lui una falsa accusa, la congiunzione os introduce il contenuto di quella accusa e quindi noi in italiano, per introdurre il contenuto di quella falsa accusa, diciamo secondo la quale, oppure una falsa accusa che sosteneva che, cioè dobbiamo naturalmente elaborare una formula di passato. Secondo la quale, il soggetto è sempre questo Apollo d'oro, afficò menosse, essendosi recato, potè un giorno, affitna zè, allora questo affitna zè, se c'è, lo vediamo scritto, se no lo dico io, è costituito da affitna, che è il nome di una località dell'Attica, e poi questo suffisso zè, che indica il moto a luogo. Ecco perché la traduzione sarà, secondo la quale, giunto un giorno ad affitna, e poi spiega anche perché. Epi drapeten autu zeton, quindi sarebbe, zeton vuol dire cercando, andando alla ricerca, epi drapeten, di un suo schiavo, di un suo schiavo fuggitivo, suo e autu, che vuol dire di lui, quindi andando alla ricerca di un suo schiavo fuggitivo, pataxie avrebbe picchiato, in quel, avrebbe picchiato, insomma in questa città, il li non c'è, ma lo mettiamo noi per completare un po' la frase, quindi li avrebbe picchiato, pataxie, ed è un ottativo perché in questo caso la dichiarativa conos vuole lotativo, lotativo obliquo, avrebbe picchiato di unaica una donna, cai, e ectes pleges, quindi in seguito, dunque pleges è un genitivo femminile singolare, quindi probabilmente sarebbe in seguito alla percossa, ma noi non diciamo che uno muore in seguito alla percossa, diciamo in seguito alle botte, in seguito alla percossa, e anzropos, notiamo questo abbinamento della parola anzropos, che di solito noi intendiamo nel senso di uomo, con l'articolo al femminile, perché in realtà anzropos non vuol dire né uomo né donna, anzropos vuol dire essere umano, e quindi se c'è l'articolo femminile dobbiamo dire necessariamente è la donna, teleutesien morì, quindi da teleutao vuol dire morì in seguito alle botte, bene, parascheuasamenos, ecco, viene dal verbo parascheuazo, naturalmente come sempre ci avvaliamo anche dell'ausilio del vocabolario montanari, ecco, e vediamo che parascheuazo fra i suoi possibili significati di preparare, apprestare, rendere, disporre, anche quello di assoldare, assoldare ai danni qualcuno, ai danni di qualcun altro, in questo caso va, direi che vada molto bene, ah, ecco, poi andiamo a vedere meglio, ecco, mi sa che, sì, il verbo è medio, quindi per essere ancora più precisi, andiamo a vedere il significato medio che troviamo qui al numero due, naturalmente troviamo ancora macchinare, intrigare, e ancora subornare e assoldare, quindi abbiamo la prova provata, la dimostrazione certa che la nostra intuizione era giusta, cioè quello di assoldare. Bene, quindi avendo, ho perso il segno, eccolo qua, avendo assoldato Anthropus Dulus, io sotto Anthropus non ho messo traduzione, perché noi non ce la facciamo a dire esseri umani schiavi, diciamo semplicemente avendo soldato degli schiavi, quindi tolgo nella traduzione deliberatamente Anthropus. Kai e kataskewasas, e avendo, letteralmente vuol dire, avendo fatto passare, avendo fatto credere, os, nuova dichiarativa, che eiesan fossero chiurenaioi, cioè cirenei, quindi gente di cirene, pro eipen, quindi pronunciò l'interdizione auto contro di lui, epipalladio fonu, quindi per omicidio fonu epipalladio davanti al palladio. Bene, adesso andiamo ad affrontare il paragrafo dieci. Comincio con la lettura. Cai elegenten dicem Stefanos utosi, diomo samenos os ecteinen apollodoros ten giunaica autoceiria, autoceiria, ex soleian autocae genei, cae oicchia e parasamenos, a utegeneto ut eiden ut ecusen utenos popote ansropon. C'è il punto e quindi vado ad analizzare questa prima parte. Eccoci su lexigram e scorgiamo elegen indicativo imperfetto terza persona singolare del verbo lego, diomo samenos in participio del lauristo nominativo singolare maschile medio, ormai abbiamo capito che non è medio passivo, ma è medio del verbo di omniumi, composto da di a e da omniumi. Poi abbiamo ecteinen, che propriamente potrebbe essere l'indicativo imperfetto, terza persona singolare attivo di cteino, ma potrebbe essere anche l'indicativo del lauristo, terza persona singolare attivo di cteino. Quindi abbiamo ancora eparasamenos, participio del lauristo medio di eparomai, un verbo contratto, viene da araomai, il verbo base è araomai, contratto è aromai, ed è un nominativo singolare maschile medio. egeneto è l'indicativo del lauristo, terza persona singolare di gignomai, indicativo del lauristo medio, poi abbiamo eiden, che è l'indicativo del lauristo di orao, terza persona singolare, ecusen, indicativo del lauristo di acuo, terza persona singolare attivo, e poi abbiamo finito. Allora, cai e stefanos utosi, quindi sarebbe questo Stefano qui, abbiamo già più volte detto, che si tratta del pronome utos più lo iota epidittico, che serve ad indicare la persona, in tribunale, così come in teatro, le persone spesso venivano indicate, quindi questo Stefano qui, fa parte del linguaggio tribunalizio, quindi, e questo Stefano qui, elegant and deacon sosteneva l'accusa, di homo osamenos, di homo osamenos vuol dire parlare sotto giuramento, quindi affermando sotto giuramento, è un participio del lauristo, ma qui la traduzione sta sicuramente meglio, con il presente, è migliore con il presente, affermando os che, è una dichiarativa di tipo soggettivo, perché si stanno riportando i pensieri, appunto, di Stefano, quindi affermando sotto giuramento che, ecteinen, allora a questo punto è sicuramente un auristo, che noi dobbiamo tradurre poi con il trapassato, prossimo italiano, aveva ucciso, perché rispettiamo le leggi della consecuzio, essendo noi figli di latini, quindi che, e Apollodoro il soggetto, Apollodoro aveva ucciso, teni unaica, la donna autocheiria, vuol dire di propria mano, eparasamenos, vuol dire, invocando la maledizione, ancora una volta, è un participio dell'auristo, che però noi traduciamo col presente, proprio per sottolineare la puntualità dell'azione, quindi invocando la maledizione, ex oleiam è la maledizione, se vogliamo questa parola, la possiamo andare anche a vedere, ogni tanto è bene andare a consultare il vocabolario, naturalmente non troverò ex oleiam all'accusativo, ma troverò il, eccolo qua, troverò il nominativo, e vediamo che vuol dire completa rovina, sterminio, anzi qua, ex oleiam è autocheiria, eparasamenos, imprecando rovina sia per sé, sia per i suoi figli, è una frase che assomiglia, ah sì, è di De Mostne, eccolo qua, ed è una, ecco, questa frase che abbiamo appena letto è di Lisia, ma assomiglia sicuramente molto, vedo le stesse parole, alla frase che c'è in De Mostne, nel nostro testo, quindi comunque vuol dire rovina, imprecare, col verbo vuol dire imprecare la rovina, quindi infatti vuol dire, invocando la maledizione, quindi imprecando la rovina, autò su di sé, cai genei, e sulla propria stirpe, aggiungo, è un po' pesante in italiano, però aggiungo la e, la congiunzione, autò allo spirito aspre, vuol dire su di sé, cai alla congiunzione, genei vuol dire stirpe, schiatta, cai o ichia, e sulla propria casa, invocare la maledizione su di sé, sulla propria schiatta, e sulla propria casa, il pronome relativo a, indica il motivo per cui si invoca la maledizione, lui invoca la maledizione, quindi per cose che, quindi avol è il relativo per cose che, e adesso qui abbiamo i verbi, ut e geneto, ne erano mai accadute, il verbo è la terza persona singolare, perché il soggetto è un neutro plurale, e quindi qui si attua, si applica il cosiddetto schema attico, quindi per cose che, né e geneto erano mai accadute, ut e eden, né egli aveva mai, aveva mai visto, è il popote che ci dice il mai, né, e, 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 Udenos Anthropon, ehm, il sentir dire che è in acuo, vuole il genitivo della persona da cui si sente dire, quindi, ehm, non aveva sentito dire, da nessuno, ehm, propriamente Anthropon è un genitivo partitivo, da nessuno tra gli uomini, ehm, in italiano penso che possiamo anche eliminarlo, non è necessario dire da nessuno tra gli uomini, possiamo dire semplicemente da nessuno. Proseguo con la lettura. Excelenzeis de piorcon cae pseude aetian epiferon, cae catafanesce nomenos memistomenos iupo cefiso fontos, cae apollofanus, ost excelasai apollodoron e atimosai argurion elefos, oligas psefus metalabon, ecce pentacosion, apelsen epiorche cose, cae doxas poneros einae. Torno sull'exigram e facciamo tutte le nostre necessarie analisi. Excelenzeis è il participio dell'auristo passivo nominativo singolare maschile di Excelenco, e vorrei subito andare a vedere sul vocabolario questa parola Excelenco, per renderci conto poi di ciò che c'è intorno. Ecco Excelenco, ora il dizionario si attiva e mi fa andare, vuol dire confutare, ribattere, smentire, mettere alla prova, sperimentare, al passivo, ed è il nostro caso, perché noi abbiamo il participio dell'auristo passivo, vuol dire essere confutato, essere convinto, essere trovato colpevole, e nella sua costruzione, vediamo che abbiamo per i più genitivo colpevole di qualche cosa, oppure abbiamo con il participio, eccolo qua, infatti Excelenco è uno dei verbi che si costruiscono con il participio predicativo, quindi la parola che è subito dopo Epiorcon, che è per l'appunto il participio presente nominativo maschile singolare di Epiorcheo, è sicuramente un participio predicativo retto dal verbo Excelenzeis, cioè da Excelenco. vado avanti con l'analisi dei verbi, Epiferon è un participio del presente di Epifero, ed è un nominativo maschile singolare, quindi sarà anche esso un participio predicativo dipendente da Excelenco, da Excelenzeis, poi abbiamo Genomenos, che è un participio dell'auristo nominativo maschile singolare di Gignomai, Memistomenos è un participio perfetto del verbo misto ed è un nominativo maschile singolare, poi abbiamo Excelasai, che è un infinito dell'auristo del verbo Excelenco attivo, Atimosai, infinito dell'auristo attivo anch'esso del verbo Atimao, Eilefos, participio del perfetto di Lambano, Nominativo maschile singolare attivo, Metalabon, participio dell'auristo di Metalambano, Nominativo maschile singolare, Poi abbiamo Apelsen, che è un indicativo dell'auristo di Apercomai ed è una terza persona singolare, Epiorchecos è un participio del perfetto di Epiorco, nella sua forma contratta, nella sua forma distratta, sarebbe Epiorcheo ed è un nominativo maschile singolare, Doxas è un participio dell'auristo di Docheo ed è un nominativo maschile singolare, infine il verbo Essere all'infinito. Bene, torniamo all'inizio di questo lungo periodo e facciamo la traduzione. Ecco, Excelenzeis, forse è meglio tradurlo Riconosciuto, Colpevole, e ci aggiungiamo poi i due participi peredicativi, di Essere Spergiuro e Cai Epiferon e di aggiungere una Pseude Aetian, una falsa accusa, e Cai e Genomenos Catafanese, letteralmente vuol dire essendo stato evidente, Catafanese vuol dire evidente, ma è evidente al maschile, non è evidente al neutro come noi forse ad orecchio potremmo immaginare. Andiamo subito a vedere Catafanese così ragioniamo sull'aggettivo e capiamo che cosa intendo. È un aggettivo da uscite che fa Catafanese, Catafanese, quindi il nostro Catafanese con l'eta è ovviamente al maschile. Allora, vuol dire visibile in vista e vuol dire chiaro e evidente. Allora, Catafanese si costruisce, Catafanese col verbo Essere, si costruisce anch'esso col participio predicativo, con questo qua. Quindi noi diciamo è evidente che io faccio qualche cosa, il greco dice sono evidente facente qualcosa, ma naturalmente noi in italiano non potremmo mai dire così. Quindi tornando al nostro testo e applicando la regola, verrebbe Genomenos, participio congiunto, che vuol dire essendo, essendo risultato, Catafanese, nominativo concordato col participio congiunto, quindi essendo risultato evidente. Poi, Memistomenos è il participio predicativo dipendente da Catafanese, è passivo, e quindi io facendo la dichiarativa con cui traduco il participio predicativo, devo ricordarmi di metterlo al passivo. Quindi risultando evidente, sarebbe essendo risultato evidente, forse è meglio per alleggerire, tradurre con il presente, risultando evidente, Memistomenos, che era stato comprato, Iupoche Fisofontos, complemento d'agente, Dace Fisofonte, Cai Apollofanos ed Apollofane, Oste Exelasai, così da fare esiliare, Exelauno propriamente vuol dire caccio, così, quindi Oste introduce la consecutiva, quindi così da fare esiliare, così da cacciare, ecco, Apollodoro è E, corrisponde al latino Out, O, che, così da fare esiliare, Apollodoro, E, sta per quindi O, corrisponderebbe al latino Out, Atimosai è il secondo infinito dipendente da Oste, o così da, in pratica, togliergli i diritti civili, perché il verbo Atimao vuol dire questo, Eile Fos dopo aver ricevuto Argurion del denaro, dopo aver ricevuto del denaro, quindi ribadisci il concetto di corruzione, Metalabon letteralmente vuol dire avendo preso, avendo preso con sé, avendo preso dalla sua parte, quindi possiamo anche tradurre semplicemente con un con, oligas e psefus, complemento oggetto, ben pochi voti, e il concetto di dalla sua parte e dentro meta, metà sarebbe, il preverbio metà, e quindi noi diciamo con pochi voti dalla sua parte, ec pentacosion, sui cinquecento, sottointeso della giuria, quindi con ben pochi voti dalla sua parte, sui cinquecento della giuria, ecco, apelze, se ne uscì, e pior che cos, sarebbe letteralmente, avendo spergiurato, quindi possiamo dire anche l'aggettivo risultante, perché non dobbiamo dimenticare che il perfetto ha un valore risultativo, quindi spergiuro, che è un participio dell'auristo, ma non certo possiamo tradurre essendo sembrato cattivo, diciamo sembrando, l'autore usa il participio dell'auristo per indicare la puntualità dell'azione, letteralmente sarebbe sembrando essere malvagio, cattivo, meglio possiamo dire in italiano con una fama pessima. Bene, torno ai paragrafi e abbiamo il paragrafo undici. È breve, è un unico periodo, e quindi lo leggiamo tutti in una volta. scopete dei autori o andres di castai, ecco nei coton logizomenoi prossima sautus, ti han ecresamen e mautò, caiteggiune chi, caitea del fe, e ti appollo d'oro, siunebbe pazzein, on Stefanos utosi, e pebulesen autò, e ento protero, e ento iustero, agoni, punto interrogativo. Allora, vado ad analizzare il testo. Il primo verbo è scopete, che è un, potrebbe essere un indicativo oppure un imperativo presente seconda persona singolare attivo del verbo scopeo. Poi abbiamo eicoton, eicoton viene dal verbo eico, è un verbo che in realtà appare soltanto al perfetto, infatti questo è un participio del perfetto di eoica, che si scrive eoicoton oppure anche eicoton, participio del perfetto genitivo neutro plurale. Logizomenoi è un participio del presente nominativo maschile plurale del verbo logizomai, ecresamen, ecresamen è l'indicativo dell'auristo medio del verbo kraomai, del verbo kraomai, ed è la prima persona singolare. Abbiamo poi sunebe, che è l'indicativo dell'auristo, terza persona singolare, attivo del verbo sium baino, ricordiamo che quando la nasale si trova a diretto contatto con la labiale è la nasale mi, non è la nasale ni, così qui torna la ni perché c'è l'aumento, pazzein è l'infinito dell'auristo attivo di Pasco, epebulesen è un indicativo dell'auristo terza persona singolare attivo di epibuleuo, infine basta, non ci sono più verbi, quindi comincio a tradurre. Scopeite è messo così all'inizio di periodo è chiaramente un imperativo, quindi riflettete de dunque autoi, vuol dire voi stessi, alla lettera sarebbe voi stessi prossiumas autus, con voi stessi, è sotto, è molto più in là, ecco lo voglio mettere alla lettera così ci si ricorda meglio, sarebbe voi stessi con voi stessi, ma è orribile in italiano, non potremmo mai dire voi stessi con voi stessi, però di fatto in greco è così, autoi prossiumas autus, allora come risolvere in italiano? Potremmo dire, riflettete dunque tra voi e voi, ecco mettiamo anche il meglio, così ci intendiamo che non possiamo usare un'espressione di questo tipo in italiano, quindi riflettete tra voi e voi, ecco, nel vostro anime, in pratica, o andres di castai, o giudice, o giudici, ecton e coton, letteralmente sarebbe a partire dalle cose verosimili, quindi, su quel che vi pare verosimile, quindi sulla base di quello che vi pare verosimile, anzi mettiamo anche sulla base di quel che vi pare verosimile, perché mi sembra più comprensibile, quindi sulla base di quel che vi pare verosimile, e lo ghizziamo noi riflettendo, basandovi, quindi riflettendo sulla base di quel che vi pare verosimile, basandovi su quel che vi pare verosimile, possiamo dire così, ecco, o riflettendo, oppure basandovi su quel che vi pare verosimile, prossiumas autus, l'ho già detto ed è qua, con voi stessi, e quindi sarebbe, riflettete fra voi e voi, giudici, se ho già usato il verbo riflettere, allora qua possiamo dire, considerando, ecco, facciamo tutte le nostre valutazioni, passo per passo, quindi riflettete dunque, voi stessi, con voi stessi, quindi tra voi e voi, o giudici, sulla base di quel che vi pare verosimile, considerando, quindi considerando sulla base di quel che vi pare verosimile, che cosa, ecco qua, possiamo mettere, o visto che dopo c'è il punto di domanda, invece che la virgola, possiamo mettere i due punti, e poi partire con una vera e propria domanda, ti infatti è un pronome interrogativo, che cosa, anne e cresamen, qui abbiamo, l'an più indicativo dei tempi storici, l'an più indicativo dell'auristo, che ci riporta sicuramente alla irrealtà del passato, detto questo, è importante valutare il verbo kraumai, il verbo kraumai è l'equivalente dell'utor latino, e come utor latino vuole l'ablativo, così il verbo kraumai greco vuole il dativo, andiamo a studiare il suo valore sul vocabolario, ecco kraumai vuol dire, certo usare, servirsi, comincio dall'inizio, usare, utilizzare, praticare, trattare, e poi naturalmente sempre usare, servirsi, anche trattare, avere familiarità con qualcuno, ecco qui ad esempio, il mio sguardo cade su cresta e auto, che vuol dire, far uso di se stesso, è un po' la nostra frase, naturalmente è brutto, che cosa avrei fatto uso di me stesso, vorrebbe dire in pratica, con un po' di creatività e di fantasia, ci arriviamo, vorrebbe dire che cosa avrei sofferto, a che cosa sarei stato soggetto, che cosa ne sarebbe stato di me, ecco, è questo il senso, qui noi abbiamo tradotto, tradotto che cosa sarebbe toccato a me, va bene, quindi che cosa sarebbe stato di me, o che cosa sarebbe toccato a me, e a te, di una chi, a mia moglie, a caitea del fe, a mia sorella, se, e comincia qua, la protasi del periodo ipotetico, dell'irrealtà, di cui, anche che esame, era l'apodosi, quindi, ehi, se, su nebbe, fosse capitato, a pollo d'oro, ad a pollo d'oro, pazzei in t, di soffrire qualche cosa, la traduzione più bella, chiaramente, a pollo d'oro, nel caso che a pollo d'oro, fosse caduta, in qualcuna delle macchinazioni, però, alla lettera, e, è se, fosse capitato a pollo d'oro, di subire qualcosa, poi, il pronome relativo on, è il partitivo, proprio di ti, delle cose che, qualcosa delle cose che, in italiano è insostenibile, ecco, perché occorre dire, del, qualcuna delle macchinazioni che, quindi, qualcuna delle macchinazioni che, ecco, notiamo, che, fra l'altro, qui è attestata, una attrazione del relativo, perché, perché, prima di on, ci vorrebbe tuton, delle cose, poi, che Stefano, aveva tramato, e più buleuo, ecco, vorrebbe l'accusativo, del pronome relativo, quindi, il suo antecedente, sarebbe, in genitivo, tuton, touton, con l'omega, il pronome relativo, vero e proprio, sarebbe, l'accusativo neutro plurale, a, invece, cosa succede? Succede che qui, abbiamo un fenomeno, di attrazione diretta, del relativo, per cui, l'antecedente, tuton, va via, e, lascia, al pronome relativo, che, doveva essere, a, lascia il suo caso, al genitivo, ecco, perché qui abbiamo, il pronome relativo, al genitivo plurale, quindi, delle macchinazioni, che, Stefano Suttosi, di nuovo, questo Stefano qui, e, per Bulesen, aveva tramato, aveva teso, autò, a lui, che gli aveva teso, e, ento, protero, sottointeso, agoni, o, nel primo, processo, e, di nuovo, o, sta proprio per out, out, o, ento, io, stero, in quello successivo, siamo così, arrivati, al capitolo 12, che, andiamo a leggere, e, poi, a ischiune, uc an caissum forà, peripepto cos en, andiamo su lexigram, e facciamo l'analisi, peripepto cos, è, il participio del perfetto, nominativo maschile singolare, di peripepto, è seguito dal verbo essere, che è all'indicativo imperfetto, peripepto cos, mi sono andata a muovere senza volere, ecco qui, allora, il verbo, peripepto, eccolo qua, è qui sul vocabolario, peripepto, vuol dire, vediamo, cadere attorno, cadere, gettarsi sopra, urtare, scontrarsi, ma anche, imbattersi in qualcosa, avere da fare con, incappare in, e vuole il dativo, sicuramente è il nostro caso, infatti qua abbiamo poi, a ischiune, che è un dativo, o anche, si un forà, che è un dativo, noto anche che c'è l'anne, quindi questo an, e ancora una volta, come nella frase precedente, si appoggia su un verbo, un tempo, un tempo storico, perché n, è per l'appunto, un tempo storico, siamo quindi sempre nell'ambito dell'irrealtà, quindi, comincio a tradurre, o, est, per out, poi a ischiune, in quale vergogna, e in quale vergogna, in poi, cai si un forà, e in quale sciagura, manca una e, quindi in quale vergogna, e in quale sciagura, per i pepto, an, per i pepto cos n, preceduto da u, che è la negazione, quindi, non sarei stato coinvolto, oppure, non sarei incappato, o in quale vergogna, e in quale sciagura, non sarei incappato, oppure, non sarei stato coinvolto, continuo la lettura, paracalunton, de me apanton, idea prosiontom moi, e pi timorian trepestai, on e pazzomen, iu pautu, cai, on e i dizonton, moi, anandrotaton, anthropon einae, e utos oiceios, e conta, prosatutus, se me lepsumai dicem, iu pera delfes, cae, cadestu, cae, adelfidon, cae, iunei cosem autu, medet ten, perifanos, eis tu se seus, azebusan, cae, esten polin, iubrizusan, cae ton nomon, catafronusan, ton iumeteron, eis agagon, essiumas, cae, excelensas, to logo, osadicei, curius, catasteso, otian, buleste, cresta e autè, beh, un lunghissimo periodo, di cui ora andiamo a vedere la traduzione. I verbi sono paracalunton, che è un participio presente del verbo paracaleo, ed è un genitivo maschile plurale, prosionton, che è il participio genitivo maschile plurale del verbo pros eimi, composto di eimi, dunque, vediamo qui, infatti, che l'exigram ci propone due pros eimi, si leggono tutti e due nello stesso modo, quando entrano in composizione col preverbio pros, però uno è composto di eimi, verbo essere, l'altro è il composto di eimi, verbo andare, essendo qua il participio ionton, noi capiamo che è il composto di eimi, andare. Quindi abbiamo trepestai, che è l'infinito presente medio-passivo del verbo trepo, e passomen, indicativo dell'auristo attivo del verbo pasco, prima persona plurale attivo, oneidizonton, participio presente genitivo maschile plurale del verbo oneidizo, enei è l'infinito del verbo essere, e con participio presente nominativo maschile singolare del verbo ecoattivo, l'epsomai indicativo futuro, indicativo futuro del verbo lambano, ed è un indicativo futuro medio, perlomeno la forma è media, poi è chiaro che il significato è attivo, essendo esso l'unico futuro di lambano, infatti vediamo che lambano fa il futuro l'epsomai, l'auristo elabon, però il futuro è nella forma media. poi abbiamo dunque, ecco, eisebusan, aisebusan, aisebusan è il participio, il participio presente del verbo azebeo, ed è un accusativo femminile singolare, anche iubrizusan è un participio presente del verbo iubrizo, l'accusativo femminile singolare, e così catafronusan, anche catafronusan è un participio accusativo femminile singolare di catafroneo, participio del presente, rimane eisagagon, participio dell'auristo, nominativo singolare maschile di eisago, exelenzas, participio dell'auristo, del verbo exelenco che abbiamo già studiato prima, ed è un nominativo maschile singolare, adikei è la terza persona singolare dell'indicativo presente di adicheo, catasteso è la prima persona singolare dell'indicativo futuro di casistemi, oppure potrebbe essere la prima persona singolare del congiuntivo dell'auristo di casistemi, vedremo dopo dal contesto che cosa è meglio ritenere. Poi abbiamo buleste che è il congiuntivo presente, seconda persona plurale di bulomai, e crestai che è l'infinito del presente di kraomai, ed è, nasce già medio, nasce già deponente, quindi è nella sua forma mediale. Vediamo dunque la traduzione di questo lungo passo. Il periodo comincia con un genitivo assoluto, paracalunton, a cui daremo un valore causale, quindi paracaleo vuol dire esortare, quindi diremo già direttamente paracalunton, esortando tutti quanti, manca il de, e scritto con leta vuol dire certamente, quindi esortando, poiché tutti quanti certamente, certamente, poiché tutti quanti certamente mi esortavano, quindi paracalunton de me apanton, è tradotto da poiché tutti quanti certamente, e mi esortavano, quindi paracaleo vuole l'accusativo, quindi me, e poi c'è una spiegazione, idea personalmente prosionton venendo moi da me, per far vedere meglio la struttura del genitivo assoluto, possiamo spostare, mi esortavano nella sua più corretta posizione, mi esortavano a fare cosa, ecco qua l'infinito che spiega che cosa lo esortassero, quindi avvolgermi, epitimorian alla vendetta, tre per stai avvolgermi alla vendetta, poi abbiamo direttamente il pronome relativo, che però ha assorbito in sé l'antecedente, quindi di quello che, quindi dei torti che, epazomen avevamo subito, yupautu, per opera di lui, cioè per opera di Stefano si intende, quindi mettiamo pure lui, ma fra parentesi specifichiamo che si tratta di Stefano, cai e secondo genitivo assoluto, o nei dei zonton, a cui daremo sempre un valore causale, e poiché rinfacciavano a me, quindi mi rinfacciavano, einai, di essere, anandrotaton, letteralmente vuol dire proprio il più vigliacco, ed è un superlativo da intendere qui nel suo senso relativo, perché subito dopo ha il genitivo partitivo, il più vigliacco degli uomini, ei se, ecco qua che comincia l'ipotetica, se, ancora il verbo non lo abbiamo, ma lo troveremo, adesso c'è la pausa del participio congiunto, e con utos oicheios, ricordiamo che il verbo eco con l'avverbio vuol dire essere, quindi essendo così oicheios, così strettamente legato, ta prostutus, allora sarebbe per quanto riguarda verso di loro, il ta sostantivizza prostutus, è una soluzione tipicamente greca, che in italiano non è percorribile, e quindi noi diremo, essendo così strettamente legato, direttamente diremo a loro, come se ci fosse solo prostutus, senza il ta davanti, non ignoriamo questo ta, lo valutiamo, però in italiano è impossibile tradurlo, anzi, essendo così strettamente legato a loro, che comunque è italiano, può essere meglio tradotto con dati di stretti rapporti che mi legavano a costoro, ecco, quindi se, dati di stretti rapporti che mi legavano a costoro, ecco, non avessi ottenuto giustizia, allora, notiamo una cosa, che qui l'ipotetica ei è costruita con il futuro lepsomai, ma io in italiano sono costretta a dire se non avessi ottenuto giustizia, che cosa sta succedendo, perché il greco usa il futuro, perché il greco usa lo stesso modo, lo stesso tempo, del discorso diretto, cioè il discorso diretto sarebbe stato questo, allora, queste persone gli andavano vicino e gli dicevano, due punti aperte le virgolette, se non otterrai giustizia, tu sarai ritenuto il più vigliacco fra tutti gli uomini, quel se non otterrai giustizia, sarebbe il discorso diretto che queste persone avranno, hanno fatto a lui. Il greco, entrando nel discorso indiretto, cioè trasportando questa protasi nel discorso indiretto, mantiene lo stesso modo e lo stesso tempo, cosa che noi in italiano non possiamo fare, e quindi noi italiani dobbiamo parlare italiano. Non possiamo dunque dire se non otterrò giustizia, ma dobbiamo dire se non avessi ottenuto giustizia. Io per Adelfesse, per conto di mia sorella, Kai Kedestu e di mio cognato, Kai Adelfi Donne e dei miei nipoti, Kai Kunaikose Mautu e di mia moglie. Medè e naturalmente qui c'è una negazione che farò ricadere però dopo nel verbo successivo e invece ripropongo sempre il se, quindi e se, poi qui abbiamo subito i vari participi, questi vari participi io li traduco alla lettera, ma poi in un buon italiano andranno posticipati, quindi io metto e se, poi ten azebusan, colei che ha mancato di rispetto estus e zeus agli dei, quindi colei che ha offeso per i fanos pubblicamente gli dei, azebeo vuol dire sono empio, quindi colei che ha offeso pubblicamente gli dei, Kai Esten Polin iubrizosan e che ha recato il traggio alla città, Kai Katafrunusan Tonnomon, perché Katafruneo vuole il genitivo ed ecco perché abbiamo Tonnomon e ha trascurato le leggi, quindi in una, diciamo in un'espressione un po' più incisiva, se ne è infiscata delle leggi, delle leggi quali, delle leggi Toniumeteron vostre, delle vostre leggi, e Zagagon, quindi avendo trascinato davanti a voi, quindi e se, adesso possiamo cominciare a volgere nel giusto modo in italiano, partendo da E Zagagon, ricordandoci anche che più sopra avevamo lasciato in sospeso una negazione, medè avevamo tradotto e, e il se faceva parte di que lei ancora più sopra, quindi noi dobbiamo attribuire la negazione ad un verbo, ed ecco che è arrivato il momento di ritirare fuori la negazione, quindi non E Zagagon avendo trascinato, E Zagagon è il participio dell'auristo di trascinare, quindi e se non avendo trascinato, EIS IUMAS davanti a voi, e sempre E NON, quindi il medè, dà la sua negazione a questi due participi, e non EXCELLENXAS avendo provato TO LOGO, sarebbe con il discorso, noi traduciamo meglio con la mia accusa, OS dichiarativo, OS ADK che essa era colpevole, allora notiamo ancora una volta che io traduco era colpevole, con un imperfetto, invece il verbo ADK è un presente, perché possiamo fare una dichiarativa, che in greco è al presente, in italiano all'imperfetto, questo succede perché l'italiano deve seguire la consecuzio temporum e la relatività dei tempi anche, invece il greco utilizza lo stesso modo, lo stesso tempo che il discorso avrebbe se fosse diretto, in quel momento in tribunale lui avrà usato un indicativo presente, lei è colpevole, riportando il discorso in forma indiretta, con questo OS dichiarativo, il discorso greco mantiene il presente indicativo, che avrebbe avuto nella forma diretta, bene, quindi, e non avendo provato col mia accusa che essa era colpevole, bene, catasteso, catasteso è un, abbiamo detto che potrebbe essere o un indicativo futuro o un congiuntivo dell'auristo, a questo punto per il flusso del discorso capiamo che è un indicativo futuro, un indicativo futuro che rimane indicativo futuro anche nel momento in cui il discorso viene riportato, ma certamente in quel momento reale, nella forma diretta, questo verbo sarà stato all'indicativo futuro, quindi io lascerò, sarebbe stato nella forma diretta, io vi lascerò, curios, padroni, cresta e autè, di fare con lei, otian buleste, quello che volete, riportandolo nella forma indiretta, in italiano io ho bisogno di dire, se vi avessi lasciato padroni, oppure liberi, in una traduzione un po' più bella, se vi avessi lasciato liberi, cresta e autè, di fare di lei, notiamo ancora una volta craume più il dativo, che corrisponde a utor, poi latino, più ablativo, utor vuole l'ablativo, il craume vuole il dativo, di fare di lei, otian buleste, quello che, oti è il pronome relativo, indefinito, ostis, neutro, che può essere scritto, attaccato, oppure staccato, come in questo caso, e an buleste, an vuole qui il congiuntivo, e assume un valore eventuale, di fare di lei quello che volete, quindi catasteso è un indicativo futuro, che in italiano io traduco, seguendo naturalmente la consecucio temporum, siamo all'interno di un periodo ipotetico, quindi io devo dire, se vi avessi lasciato liberi, di fare di lei quello che volete, quindi con se, più il congiuntivo, il congiuntivo trapassato, e invece il greco, utilizza lo stesso modo, allo stesso tempo, che avrebbe avuto, che ha avuto, nel momento reale, in cui questo discorso, è stato pronunciato, siamo arrivati al capitolo, al paragrafo 13, e comincio a leggere, cae osper Stefanos, utosi eme affereito, tus oiceius, paratus nomus, cae ta, sefism, ta ta, iumetera, uto, cae ego, tuton eco, epideixon, essium as, xenemen, giunaici, si unoicunta, paratus nomum, allo trius, de paidas, eis agagonta, eis, te tu, frateras, cae estus demontas, engiuonta, de tas, ton etairon, siugateras, os autu usas, esebecota, de estus, zeus, acion de oiunt, ton demonton, autu, antina bule, taipoliten, poiesestai. Abbiamo un punto, e posso fermarmi, e analizzare questa parte. Ecco, torno a lexigram, e cominciamo con l'analisi dei verbi. Il primo verbo che incontriamo è affereito, che è l'indicativo imperfetto terza persona singolare medio passivo di afaireo, composto quindi di aireo. Poi abbiamo eco, eco è l'indicativo presente prima persona singolare del verbo eco, certo potrebbe essere anche un congiuntivo, ma non è naturalmente questo il caso, e quindi è un indicativo presente, prima persona singolare attivo del verbo eco, quello con eta e la k, da non confondere con quello con epsilon e la chi. Poi abbiamo epideixon, che è un participio del futuro nominativo singolare maschile attivo di epideicniumi. Poi abbiamo sunoicunta, che è un participio, precisamente è un participio presente all'accusativo maschile singolare del verbo sunaicheo attivo. Poi abbiamo eisagagonta, altro participio, ed è un participio anch'esso accusativo maschile singolare, participio dell'auristo di eisago, anch'esso attivo. engyuonta, engyuonta è anch'esso un participio accusativo maschile singolare attivo di un verbo contratto, engyuò, che nella sua forma distratta sarebbe engyuau, poi abbiamo eisebekota, eisebekota è un participio del perfetto di azebeo, ed è un accusativo maschile singolare, participio del perfetto attivo, poiunta, participio del presente di poieo, accusativo maschile singolare attivo, e poi abbiamo buletai, congiuntivo del presente, del verbo bulomai, terza persona singolare, il verbo nasce già medio, quindi medio, possiamo dire, infine poiesestai è l'infinito dell'auristo medio, mi raccomando medio, non medio passivo come qui è scritto, a causa del solito errore di cui tante volte abbiamo parlato, infinito quindi dell'auristo medio del verbo poieo, quindi i verbi sono stati tutti analizzati, passiamo ora alla traduzione, cai osper e come, stefanos utosi, vuol dire questo Stefano qui, abbiamo sempre detto questo, che utosi è un pronome con l'aggiunta dello iota deittico, allora, affereito, letteralmente vuol dire mi portava via, e notiamo che è costruito con l'accusativo della persona a cui si porta via, e l'accusativo della cosa o della persona che si porta via, quindi sarebbe, e come questo Stefano qui, dunque mi voleva privare, significa tentava di privarmi, infatti questo è un imperfetto di tipo conativo, cioè sono gli imperfetti che indicano il tentativo di un'azione, quindi mi voleva privare, oppure possiamo anche dire, lo scrivo fra parentesi così è più chiaro, possiamo anche dire tentava di privarmi, quindi ripeto, imperfetto, tentava, ecco, di privarmi, è un imperfetto di tipo conativo, imperfetto di tipo conativo, quindi mi volevo privare, o tentava di privarmi, dei miei cari, quindi se io utilizzo il verbo privare, dirò privarmi dei miei cari, questo accusativo diventa dei miei cari, se invece uso il verbo togliere, diventerà, tentava di togliermi i miei cari, certamente l'italiano non ha la costruzione dei due accusativi, dei due complementi oggetto, invece in greco, afeireo si costruisce col doppio accusativo, e come questo Stefano qui, mi voleva privare, o tentava di privarmi dei miei cari, paratus nomus, contro le leggi, si intende naturalmente le leggi della città, quindi della città è pleonastico, però è bene metterlo in questo contesto, e c'è sempre dipendente da parà, e contro i decreti, quali decreti tra i umeter, tra i umeter a vostri, quindi è contro i vostri decreti, uto, così, ecco che si chiude la comparazione, osper, uto, come così, c'è anche io, eco letteralmente vuol dire sono venuto, perché eco, anzi andiamocelo a vedere nel vocabolario, eccolo qui, eco vuol dire sono giunto, sono arrivato, quindi dobbiamo ricordarci che il presente greco eco corrisponde ad una nostra traduzione che è in realtà di un passato prossimo, sono giunto, sono arrivato, oppure lo posso tradurre anche col presente, però con un verbo di tipo risultativo, mi trovo, perché se io sono giunto e sono arrivato, poi il risultato presente è che io mi trovo, questo è il significato del verbo eco, quindi tornando a noi, ecco io, possiamo dire sono qui, quindi mi trovo qui, oppure sono giunto qui, ecco il, il qui non c'è, però lo si capisce dal contesto, ed è bene metterlo in italiano, io sarebbe sono giunto qui, quindi il risultato è che mi trovo qui, sono qui, epidexon è un participio congiunto futuro, con valore finale, quindi a dimostrare essi o massa a voi, a dimostrare voi, tuton è il complemento oggetto di epidexon, concordato, anzi concordati con tuton, sono tutti i participi che seguono, perché dobbiamo ricordarci che il verbo epideciumi, si costruisce con il participio predicativo, quindi tutti i participi che seguono, quindi sunaicunta, esagagonta, quelli che abbiamo analizzato prima, che erano tutti in accusativo maschile singolare, si concordano con tuton, e dipendono da epidexon, che per l'appunto regge il participio predicativo, quindi io sono giunto qui, per dimostrare a voi, a dimostrare a voi, come traduco il participio predicativo, lo traduco con una dichiarativa, quindi nella traduzione in italiano metto un che, quello che è accusativo tuton diventa il soggetto della dichiarativa, quindi che egli, e a questo punto comincio a tradurre tutti i participi come se fossero dei verbi di modo finito che sostengono appunto la dichiarativa, o meglio le varie dichiarative coordinate tra loro. Il primo participio è siunoicunta, siunoiccheo, propriamente vuol dire vivo con, convivo con una persona, ma se convivo, vuol dire che poi sono coniugato con questa persona, quindi la traduzione è proprio che egli è marito, xene di un'aichi, sarebbe di una donna straniera, quindi che egli è marito di una straniera, paratonnomon, contro la legge, poi a scandire questi vari participi notiamo che sono i men e i dè, quindi men su neicunta, che egli è marito di una donna, di un'aichi, xene straniera, paratonnomon contro la legge, poi abbiamo il primo dè, e che esagaconta ha introdotto, ha introdotto allotrius paidas, vuol dire figli altrui, brutto però in italiano, ha introdotto figli altrui, cioè ha introdotto figli non suoi, eistetu frateras, sia nella propria fratria, e notiamo il plurale, che sono i componenti della fratria, ma noi non traduciamo in italiano, ha introdotto figli non suoi, tra i componenti della fratria, diciamo nella propria fratria, cae estus demotas, lo stesso discorso, qua ci sono i componenti del demo, ma in italiano per rendere più agili il discorso, diremo e nel proprio demo, proprio non c'è, lo ricaviamo noi, quindi sarebbe nella fratria, e nel demo, a cui lui apparteneva, quindi nella propria fratria, e nel proprio demo, notiamo il tè e in clitico, che si correla col cai, sarebbe sia nella propria fratria, sia nel proprio demo, poi ancora un dè, il verbo questa volta, participio sempre predicativo, è in ghiuonta, che viene da in ghiuau, che vuol dire dare in matrimonio, che ha dato in matrimonio, tas siucateras, le figlie, le figlie ton e tyron, delle cortigiane, ci sono gli articoli, le figlie delle cortigiane, ma siccome non hanno un'identità ben precisa, che qui venga espressa, in italiano sta meglio tradurlo, senza gli articoli, quindi figlie di cortigiane, os, autu, usas, os ha qui un valore comparativo ipotetico, os, qui, come se, ecco, forse è più bello, in italiano mettere anche un se, come se, usas autu, letteralmente vuol dire fossero di lui stesso, notiamo che autu ha lo spirito aspro, e quindi un riflessivo, come fossero di lui stesso, quindi in italiano, naturalmente diremo come se fossero sue. Proseguiamo incontrando un altro participio predicativo, e anche un altro dè, quindi, azebeo vuol dire essere empio, mancare di rispetto agli dèi, quindi, che ha peccato, estus et zeus, verso gli dèi, ancora un altro participio predicativo, ancora un dè, poieo achiuron, letteralmente sarebbe, che ha reso, ton demon, complemento oggetto, il popolo, achiuron, che ha reso il popolo, achiuron è un altro accusativo, ed è un predicativo dell'oggetto, quindi, che ha reso il popolo, naturalmente troverò achiuros sul vocabolario, ma facendo col copia e incolla, ecco, facendo col copia e incolla, naturalmente, ho fatto con achiuron, ecco, achiuros vuol dire privo di autorità, di valore, non valido, privo di diritto, e privo di potere, quindi, letteralmente, ecco, anche qua abbiamo fra l'altro il verbo poieo, in questo esempio di senofonte, e poi un auton achiuron, vuol dire, non gli davano alcuna importanza, cioè, lo rendevano privo di potere, privo di, privo di importanza, quindi, se faccio alla lettera, tradurrò, che, che ha sottratto, che rendeva il popolo achiuron, privo di potere, privo di diritti, allora, in una forma un po' italiana, un po' più bella in italiano, diremo, che ha sottratto al popolo il diritto, quindi, che ha sottratto al popolo il diritto, quindi che ha sottratto al popolo il diritto, poi specifica ton autu, quale diritto, e questo è un genitivo partitivo, sarebbe il diritto, tra quelli, ton autu, sarebbe di lui, tra quelli suoi, cioè, ancora più letterale, tra quelli di lui, tra quelli suoi, meglio, che esso possiede, quindi, alla lettera, ton autu, tra quelli di lui, un po' più bellino, tra quelli suoi, meglio ancora, che esso possiede, qual è questo diritto? Il diritto, poi esastai, di rendere politen cittadino, di rendere cittadino, vuol dire di dare la cittadinanza, quindi, ancora una volta, poieo è costruito col doppio accusativo, anche qui sopra, poi un tacchio non ton demon, doppio accusativo, anche qui abbiamo il doppio accusativo, sempre nel significato di rendere, di rendere, ti na' qualcuno, politen cittadino, quindi, in un italiano un po' più agile, di dare la cittadinanza, a chi voglia, a uno che voglia, quindi, a chi voglia, ecco, sono finiti, i participi predicativi, ed è finito, quindi, il lungo periodo, ritorniamo a leggere, e poi ad analizzare, questa è una domanda, è un'intera, quindi, interrogativa diretta, di cui ora, vediamo le singole parti, il primo verbo, che incontro, è, setese, è, setese, è, è, lotativo dell'auristo, terza persona singolare attivo, del verbo zeteo, la bene è, l'infinito dell'auristo attivo, del verbo lambano, poi abbiamo mellon, participio del presente, nominativo maschile singolare, del verbo mello, che ricordiamo, insieme all'infinito futuro, che è qui presente, esestei, infinito futuro, del verbo imi, costruisce, in greco, quella che in latino, sarebbe la perifrastica attiva, participio futuro, più il verbo essere, poi abbiamo exone, exone è il participio, in accusativo neutro singolare, del verbo ex eimi, composto di eimi, possiamo anche considerarlo, come fa l'exigrama, la terza persona singolare, perché di fatto, è una forma impersonale, e exone è propriamente, un accusativo assoluto, di cui poi vedremo il valore, e poi abbiamo genesete, genesete è un indicativo futuro, terza persona singolare, del verbo gignomei, e penso di aver finito, esatto, allora torniamo su, e traduciamo, gar, infatti, tisse, è un pronome interrogativo, quindi chi, e ci aggiungiamo subito, eti, che vuol dire, in senso temporale, chi più, poi an, invece si appoggia, sull'ottativo, e ricordiamo, che a an, più ottativo, corrisponde al potenziale, del presente, quindi, chi più cercherebbe, potremmo tradurre, oppure anche utilizzare, il nostro futuro italiano, con valore potenziale, chi più cercherà, la bene, di ottenere, Doreanne, questo dono, questo non c'è, ma in italiano, lo aggiungiamo, paratu, demu, quindi, da parte del popolo, quindi, dal popolo, mellon, con l'intenzione, esestai, di essere, di diventare, anche, polites, cittadino, quindi, uno che abbia l'intenzione, di diventare cittadino, metà, pollon, analumaton, con molte spese, cai, pragmatheias, e con molta fatica, quindi, chi più, in pratica, resterà, che si voglia addossare, molte spese, molte fatiche, e molta fatica, per ottenere questo dono, dal popolo, cioè, il dono, della cittadinanza, exon, è un accusativo, assoluto, con valore causale, dato che, gli è possibile, ricordiamo che, ex esti, alla terza persona singolare, vuol dire, è possibile, e di solito, si costruisce, con l'infinito, che chiaramente, qui è sottinteso, ma sarebbe sempre, la bein, do rean, se gli è possibile, quindi, ottenere questo dono, dato che gli è possibile, invece di ripetere, invece di ripetere, ottenere questo dono, vediamo che qui, utilizza, questo, è questa sorta di frase completiva, che non è propriamente un'ipotetica, è una sorta di completiva, che alla lettera vuol dire, se, se, ge, proprio, to autotuto, vuol dire, ancora proprio, proprio questa cosa, genese, tai, sarà, a lui, quindi, dato che gli è possibile, se proprio questa cosa sarà a lui, naturalmente, è orribile, in italiano, allora, noi diremo, avere la stessa cosa, se proprio questa stessa cosa sarà a lui, vuol dire, avere la stessa cosa, c'è ottenere lo stesso dono, il dono della cittadinanza, in pratica, parastefanu, da parte di Stefano, da Stefano, ap elatonos, elatonos è, ricordiamocelo, il comparativo di micros, ed è un genitivo singolare, che va concordato con analomatos, che è un genitivo singolare neutro, del sostantivo analoma, che vuol dire spesa, quindi con una minore spesa, quindi, dato che gli è possibile, ottenere la stessa cosa, avere la stessa cosa, da parte di Stefano, con minore spesa, e con questo punto di domanda, si conclude il paragrafo 13.